Assessore, un'estate calda sul fronte della sanità, soprattutto per quanto riguarda la questione del DEA di secondo livello, l'ospedale di Chiedi, l'ospedale di Pescara, il project financing, qual è la sua posizione? Un'estate calda, non direi, un'estate calda da un punto di vista meteorologico, senz'altro. Per quanto riguarda le problematiche della sanità, voi sapete che sono problemi che ci sono da diversi anni, che si stanno affrontando e questa giunta in maniera ben organizzata porterà a termine. Il problema del DEA di secondo livello, che riguarda sia l'Aquila-Teramo e sia Chiedi-Pescara, è al vaglio di tutte le varie situazioni, di tutti i tavoli, il tavolo tecnico che ho organizzato in sede di giunta, il tavolo di monitoraggio, il tavolo di affiancamento che ho chiesto proprio al Ministero. Si stanno valutando quelli che sono i requisiti, che purtroppo non tutte le strutture hanno, requisiti che però valuteremo in base a questa nuova riorganizzazione, che presenteremo anche a livello di maggioranza, a livello di commissione, ma soprattutto quello che noi faremo è salvaguardare la tutela della salute dei nostri cittadini. Il Partito Democratico insiste col project financing? Il project financing è parte dell'Als di Chiedi, è in mano al facente funzione, al direttore, quale ha dichiarato che non ancora ci sono i fondi per la copertura totale, per cui è ferma questa situazione. Quanto riguarda invece sempre il Santissima Annunziata, l'opposizione dice che mancano alcune prestazioni chirurgiche, c'è stato un crollo di alcune prestazioni e mancano i primari. Sì, a fine loro legislatura alcuni primari sono andati via, invece oggi l'universitario ha aperto questa possibilità di convenzionare proprio la chirurgia e penso che avremo dei bravi chirurghi.